buonasera buonasera a tutti finisce qua l'avventura di fabbio fognini al torneo di monte carlo una sconfitta con rude per 6 463 una partita che si è decisa nel decimo game del primo set quando fognini si è trovato avanti 40 a 0 ha commesso tre gratuiti di cui l'ultimo quello del 40 30 veramente di un centimetro e purtroppo lì rude ha ripreso il game e dopo aver ripreso il game ha fatto il break e poi è scappato via 3 a 0 nel secondo te set fognini era riuscito annullando quattro palle del 4 a 0 quindi nel secondo set ha rischiato seriamente di finire con sotto 4 a 0 ha annullato le quattro palle break era riuscito a controbreccare rude agganciarlo sul sul tre pari e poi sul 4 a 3 rude ha ceduto il nuovamente il servizio e rude è andato a servire per il match fognini ha avuto la palla per 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 tornare nuovamente in partita ha sbagliato un dritto e rude poi ha chiuso un nastro out di fognini un nastro che ha trascinato la palla out e quindi fognini è fuori dal torneo di monte carlo partita equilibrata partita decisa appunto da dieci minuti di fognini in versione peggiore diciamo il fognini che non vorremmo mai vedere comunque buon torneo di fabio rude atleticamente e fisicamente migliore di fabio il primo set che è durato un'ora certamente non ha aiutato fognini nel tentativo di recupero ripeto ci è andato molto vicino a fare la rimonta perché anche il game che ha perso sulla 4 a 3 lo ha perso da da palle game quindi tutto sommato la partita è stata lì fognini che non è mai riuscito a anche nel primo set fognini è stato più volte 0 30 ma non è mai riuscito a dare veramente il colpo di grazia all'avversario cosa che invece è riuscita rude che quando ha avuto l'occasione di bastonare fognini non si è lasciato pregare e lo ha fatto questo questo comporta che fognini purtroppo scenderà perderà 500 punti e scenderà notevolmente in classifica torneo degli italiani ripeto l'unico che poteva far strada fin dove è andato era fognini il resto c'erano ben poche possibilità dovute appunto al come detto più volte al tabellone e negli altri due quarti di finale si si passa a vinto con davinovic fuchina per 7 5 e poi il ritiro dello spagnolo che si è fatto male sul tre pari del dell'unico set non del primo set ma dell'unico set giocato grandissima partita di evans che ha battuto coffen al terzo set evans che si sta scoprendo terraiolo cosa che nessuno avrebbe mai potuto né prevedere né pensare né immaginare evans che ha vinto nonostante un clamuroso errore a proprio sfavore sul 3 a 2 evans palla break un doppio fallo di coffen non visto dal giudice di riga aveva rimesso in piedi per goffè non game che poi goffè ha vinto e comunque poi giustizia ha voluto insomma che la partita l'abbia vinta comunque il britannico aspettiamo nadal che a questo punto visto anche la concorrenza rimasta è il netto favorito del torneo cioè sarebbe veramente sorprendente che nadal non riuscissi a vincere monte carlo nadal che gioca con rubler sarà una gran partita ve la commenteremo anzi ve la commenterò inutile parlare al plurale sono solo ve la commenterò subito dopo la fine intanto un applauso comunque a fabio foglini che da detentore si è spinto fino al venerdì monegasco e vedendo la forma non era affatto semplice domani esce il tabellone di barcellona quindi gli italiani sono finiti ma lunedì ne abbiamo molti a barcellona seguiremo comunque anche senza italiani ripeto nadal e seguiremo le semifinali seguiremo la finale io vi aspetto di nuovo stasera per commentare la partita di nadal per commentare anche meglio le altre due tre partite le altre due partite quella di foglini l'abbiamo ampiamente valutata per commentare appunto il quadro dei quarti di finale del di monte carlo che purtroppo quest'anno non ci ha dato la soddisfazione che ci ha dato due anni fa a dopo ci vediamo dopo la fine della partita di nadal e ancora una volta buon tennis a tutti e buon pomeriggio